Oggi si celebra la festa della presentazione di Gesù al Tempio, esattamente 40 giorni dopo il Natale, detta anche la festa della candelora, perché in questo giorno, prima di celebrare la messa, la gente si raccoglie fuori dalla chiesa, ciascuno riceve una candela che viene accesa e benedetta e poi si entra in processione, questo a richiamare le parole che troviamo nel brano di Vangelo di oggi, brano di Vangelo di Luca, scelto proprio per questa festa, dove si racconta per l'appunto che Gesù è portato al Tempio di Gerusalemme dai suoi genitori per presentarlo al Signore, come era usanza fare per ogni figlio maschio primogenito. Qui Maria e Giuseppe incontrano un uomo di nome Simeone, uomo giusto e di grande fede, che aspettava la venuta del Messia e lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia, cioè il Cristo. Come racconta Luca nel Vangelo, vediamo, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva al suo riguardo, Simeone lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo, ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Ecco il riferimento alla luce di cui vi dicevo prima. Ecco perché le candele, perché Simeone rivela che quel bambino, come ricordavo forse domenica scorsa, due domeniche fa mi sembra, quel bambino è la luce di Dio venuta ad illuminare l'umanità, quella luce divina di cui parlavo, come dicevo qualche domenica fa, che abita dentro di noi. Simeone si rivolge a Dio in preghiera dicendoli, ora posso anche morire, perché ho visto l'avvenimento più bello, la venuta di Dio in mezzo a noi. Noi sappiamo riconoscere le luci che Dio pone nella nostra vita o siamo sempre lì a sottolineare le ombre. Oltretutto se c'è la luce è normale che ci sia anche l'ombra, fa parte della vita terrena, solo nell'aldilà ci sarà soltanto luce, gioia, vita e bene, ma finché siamo qui dobbiamo convivere con luce ed ombre. Se ci pensate un po' come la nostra ombra, ce la portiamo dietro sempre. Ci sono le nostre ombre che ci portiamo dietro, che sono gli aspetti ombrosi della nostra vita, ma c'è anche la luce, dobbiamo imparare a vederla. Per cui sappiamo come Simeone è riconoscere le luci. È la sua fede, è la fede di quell'uomo che lo aiuta a riconoscere in quel bambino la luce di Dio che si fa presente. Allora la nostra fede, il pregare, lo stare con Dio dovrebbe aiutarci a riconoscere le luci di Dio nella nostra vita e non passare il tempo a lamentarci di noi stessi, degli altri, del mondo, della società, borbottando come se fossimo una sorta di pentole di fagioli. La fede e la preghiera servono proprio per aiutarci a vedere le luci di Dio in noi innanzitutto. Renderci conto, come ho ricordato più volte in questo periodo, che non siamo persone disabitate e vuote, bensì abitate dalla luce di Dio, che spesso però non sappiamo vedere o che lasciamo seppellita sotto le tante cose che occupano le nostre giornate e le nostre menti. La fede e la preghiera dovrebbero aiutarci a fine giornata, come accade a Simeone a fine della sua vita, a riconoscere quelle che sono state le luci di quella giornata, imparare a ringraziare, renderci conto di quali sono le luci della nostra vita. Le luci di chi ci vuole bene, di chi amiamo, di chi ci ama, la luce di Dio che nonostante tutto ci ama, la luce di ciò che di buono siamo riusciti a fare oggi, la luce di ciò che di bello ci circonda o di ciò che abbiamo, le possibilità che abbiamo, le nostre qualità, le nostre abilità, le nostre possibilità. Queste sono le luci che ogni giorno, a fine giornata, dobbiamo riconoscere all'interno della nostra vita. Ogni giornata presenta delle luci, spesso però non le sappiamo vedere, siamo talmente di fretta, talmente presi dalle ombre che non riusciamo a vedere altro. Tornando alla gioia della quale stiamo parlando in questi giorni, occorre dire che spesso questa gioia ci manca perché non sappiamo vedere le luci della nostra vita. La gioia non nasce, non viene sganciandoci dalla realtà, costruendoci un mondo illusodio, finto, ricercando lo sballo per dimenticare le durezze della vita, ma la gioia si trova restando ancorati nel presente, quel presente che a volte non ci piace o non accettiamo, dal quale a volte vorremmo fuggire e scoprire che in quel presente non ci sono solo le ombre, ma le luci e questo genera gioia. Buona giornata.